Energie alternative, digitale, mobilità sostenibile, valorizzazione dei giovani. Sono queste le principali richieste al mondo della politica da parte dei rappresentanti dei comparti giovanili delle realtà produttive riunite alla Casa delle Associazioni per il nuovo appuntamento del ciclo di incontri promosso da Fratelli d'Italia. Questa volta in sinergia con il Movimento Giovanile del Partito, Gioventù Nazionale. Abbiamo già fatto tre eventi di ascolto di tutte quelle che definiamo le migliori energie della città. Oggi vogliamo proseguire ascoltando le energie giovani della città. Il mondo giovanile degli industriali in questo preciso momento storico cosa richiede al mondo politico piacentino? Per mettere in campo quelle soluzioni che possono permettere la produzione di energie alternative, quei sistemi fotovoltaici piuttosto che pensando a un sistema di idroelettrico. Dato che nel nostro territorio, nella provincia, abbiamo una serie di fiumi e poter sfruttare quanto più oggigiorno creando dei bacini. specie anche, ad esempio, guardando sulla tematica di siccità. Il mondo dell'agricoltura chiede supporto e vicinanza per le iniziative che sono fatte principalmente per il territorio e per cercare di aiutare i produttori che vogliono vendere al consumatore. In quest'ottica è stato fatto aver aperto il mercato coperto in via Farnesiana che cercherà di avvicinare l'agricoltura, specialmente per le piccole aziende. Il mondo di confcooperativa in questo momento cosa chiede alla politica? Di dare ai suoi giovani un ruolo operativo, quindi di stimolarli e renderli partecipi di quello che è lo sviluppo del loro territorio. Nel mio caso si tratterà del paesaggio fluviale, quindi è il tema appunto su cui lavoro e che sicuramente è un nodo cruciale per lo sviluppo della città di Piacenza. Sicuramente vorremmo capire l'infrastruttura digitale sul territorio come sarebbe lo sviluppo nei prossimi anni e la connettività, la rete fibrottica dove arriverà perché non è ancora servita tutta la città. Per esempio noi non siamo le mose e non arriva la fibrottica. All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche l'onorevole Tommaso Foti e il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri.